La Basilicata, cosa fai di bello nella vita? Eh, lavoro. Lavoro perché io non lo voglio fare. Bravo. Aspetta bene, come vorresti un uomo ideale? Ora, c'è. Buono. Ora, come vi dire? No, non lo so. Non lo sai, non c'è, non c'è. Arriverà, bene. Ci sono tre messaggi per te. Tre. Tre. Se dovresti sogliere da tre, come fai? Oh, tutto Bologna, 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 Bologna. Viva la Basilicata. E viva la Basilicata. Finiamo di mangiare che vogliamo ballare, siamo impattenti. Siamo super impattenti di ballare fino a domani mattina, eh, ragazzi. Eh, lo so, lo so, lo so. Dobbiamo essere liberi di ballare. Liberi, liberi, liberi. Ma ne ha tre. Eh, ce li vuoi leggere tutti? 21, 5, 6, 114, 121. Forza, ragazzi, vogliamo cominciare a ballare sul cerchio? Oh, 141, come li tieni? Ma Orlando, come lo vuoi la donna? Facciate a fare i cappelletti. Ci fosse stato il motivo per stare qui. Giuro, sai, sarei rimasto, sì. Sono convinto che se fosse stata per me, adesso forse sarei amoreato. E magari se lei fosse stata con me, adesso sarei sposato.